Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, presso il terminal bus del porto mercantile. Vogliamo mostrarvi un'altra storia di straordinario, dovrei dire, degrado. Vi abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi la stazione di Taranto e ora qui il terminal bus dove arrivano i nostri concittadini che ritornano, ma anche turisti che evidentemente arrivano qui o ripartono da qui. Il tutto in uno scenario di completo abbandono, di decozione, sono problematiche anche relative alla sicurezza, all'igiene pubblica. Insomma un pessimo biglietto da visita per Taranto, così come pessimo è il biglietto da visita fornito, offerto dalla stazione. Pare che questo terminal bus si debba spostare, dovrebbero avvenire delle varianti urbanistiche e pare che debba spostarsi a Cimino. Ma da forse un decennio e più la situazione è questa, in quest'area di assoluto degrado, vedete. Potremmo dire tante cose, a partire da un fatto incredibile. Pare che i bagni siano gestiti dal bar, dal titolare del bar e quindi quando il bar è chiuso, automaticamente anche i bagni sono chiusi. Ora massimo rispetto per il bar, per carità, ha anche diritto il titolare e i dipendenti del bar a riposarsi, figuriamoci. Però non è possibile, qui mi rivolgo a chi di dovere, mi rivolgo innanzitutto all'amministrazione comunale, che una realtà del genere possa in alcune giornate non avere, non disporre proprio di bagni. Scusatemi la volgarità, ma se a me scappa la pipì, dove la devo andare a fare? Dietro l'angolo? Dietro gli alberi? Non credo proprio. È chiuso. Se io devo andare in bagno, come faccio se i bagni sono chiusi? In realtà bisognerebbe creare dei bagni pubblici, indipendenti dal bar, che abbiano il loro funzionamento H24, ma bagni ben più accoglienti, bagni più ampi, perché l'utenza è parecchia. Non è possibile che la persona per andare nel bagno debba andare al bar, chiedere la chiave e con la chiave fruire del WC. Mi sembra davvero assurdo. Ecco perché dicevo, il bar fa il suo per carità, però un'organizzazione efficiente dovrebbe creare dei bagni pubblici, come avviene in tutte le città italiane. Taranto civili. Taranto evidentemente non fa parte delle città civili. È inaudito che io per andare a fare la pipì, sistema, non so la competenza di chi sia di preciso. Certo è che un'amministrazione comunale le sue responsabilità ce le ha, perché o è di sua diretta competenza, o si rivolge ad altri, di stretta competenza per la zona, però un'amministrazione fa sì che un minimo di vivibilità e di accoglienza un terminal bus possa offrire, perché c'è la questione bagni, ma potremmo andare oltre e considerare le gravi carenze dell'AMAT. Vedete, qui c'è una misera, parlo dell'AMAT per i bus urbani, qui c'è una misera pensillina, ma per chi deve prendere tutti gli altri autobus che sto indicando col dito di fronte a me, vedete, non c'è il becco di una pensillina, di tal che quando piove ci si bagna, per non parlare poi sotto il sole. E vedete anche qui, vedete, qui fermano i vari bus di Gran Turismo, la Miccolis, la Flixbus, Marino e quant'altro. Beh, qui, tranne quella piccola pensillina, non c'è altro. Questo per farvi vedere le disfunzioni proprio che riguardano proprio i passeggeri che arrivano, che salgono e scendono dai bus. Per non parlare poi di altre zone di degrado, vedete, qui abbiamo un gabbiotto in cui si fanno i biglietti e spostandoci un'altra area di degrado, lo vedete, erbaccia. È così difficile farla tagliare, signori cari? È un problema? E vedete lì, vedete lì, schifezze, abbandono, sporcizia. Signori dell'AMIU, datevi da fare. Signori dell'AMIU, sollevate il culetto dalle sedie, andate a pulire, guardate. Ditemi voi, per non parlare della puzza di orina che si sente e che purtroppo o per fortuna non si può trasmettere attraverso le immagini, ma qui, signori cari, dove ci troviamo? Ci troviamo a Taranto o in Albania? Eh no, peggio dell'Albania, perché l'Albania, per quello che mi consta, sta migliorando. Tirana, sta avendo un inizio di percorso turistico, un suo appeal turistico. Qui invece, ditemi voi, guardate, questo è Taranto, ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo nasconderci? Dobbiamo dire che va tutto bene, madama la Marchesa? Ma avete visto lo schifo che sta qui? Ma il turista, quando viene qui a Taranto e vede questa schifezza, se ne scappa da Taranto. Lo vuoi capire o no, sindaco? Lo volete capire o no, signori dell'amministrazione comunale? Lo vuoi capire, assessore al marketing territoriale? E la cosa che mi fa rabbia è che dinanzi a me, qui c'è l'autorità portuale, questo splendido paesaggio, il porticciolo, questa meraviglia, una meraviglia che si affaccia, che volge lo sguardo allo schifo e all'inefficienza amministrativa che vi stiamo mostrando, ma non è finita, l'orrore continua, qui non esistono le meraviglie, io, anzi non io, un'amica, la Presidente dell'Associazione Taranto Turismo, Irene Lamanna, ha coniato il termine non meraviglie ma bruttaviglie, prendiamola a ridere, ecco, bruttaviglie dovremmo dire qui, ma seguitemi un attimo, vedete, questo è un piccolo gabbiotto che dovrebbe accogliere i cittadini, gli utenti, i turisti che attendono i bus, guardate, la miseria di una panchina, è una zona così, guardate, abbandonata, scritte, sporcizia, cosa è tirana? E qui ci imbattiamo in un'altra struttura, questa era un tempo, era la biglietteria dell'AMAT, guardate com'è ridotta, qualcuno evidentemente ha sfondato, ha rotto il vetro, è entrato e oramai è un, posso dirlo? Un cesso a cielo aperto, lo ripeto, un cesso a cielo aperto, c'è di tutto all'interno, di tutto, qualcosa di incredibile, basta fare due metri e ci imbattiamo in un altro schifo, guardate qui, una puzza di orina oltre tutti gli escrementi e le porcherie varie che non si può ripetere, non si può esprimere questo tanfo, guardate e nessuno si degna di intervenire, signori dell'amministrazione, ma voi sapete cosa significa fare turismo? Sindaco, lei sa cosa significa fare turismo? Me lo dica per favore, così dobbiamo vivere in queste condizioni, guardate, guardate, qualcosa di incredibile. Io amo la mia città e se non la amassi nasconderei queste brutture, ma proprio perché la amo, desidero che un minimo di decoro sia conferito, guardate, qui per esempio ecco anche il discorso dei, guardate, un autobus non può girare perché una macchina ha ritenuto opportuno fermarsi così e quindi si blocca il traffico, l'autobus strombazza giustamente, suona, perché c'è i vigili urbani, perché non c'è il controllo delle forze dell'ordine, questo è un oasi, altro che oasi, è una landa desolata, ditemi voi, fatevi voi un'idea di questa situazione, guardate, guardate, perché poi le cose escono fuori come funghi, guardate lì, altra schifezza all'entrata di un piccolo cancello, e viva Taranto, e viva il turismo, che fine che ha fatto la capitale della Magna Grecia, che brutta fine, signori dell'AMIU, signor sindaco, signori assessori, signori consiglieri, muovetevi, lo schifo lo avete visto, muovete il culetto dalla sedia ed intervenite, chiaro? Altrimenti io ritorno, altrimenti io vi vengo a rompere le scatole durante i consigli comunali, rompere le scatole nel senso di porvi educatamente e democraticamente e civilmente queste domande per risolvere le problematiche, perché il cittadino paga le tasse, al cittadino avete chiesto il voto, dunque muovetevi, capito?